Assessore Guccinelli, mercoledì prossimo evento di presentazione sull'andamento dei fondi POR-FESRE. Ma è un evento importante, un evento importante perché è l'occasione per fare il punto sullo stato della spesa dei fondi 2007-2013, dove devo dire che le cose vanno bene, noi abbiamo avuto il 31 ottobre un'ulteriore verifica da parte del governo sulla nostra capacità di spesa, abbiamo superato ampiamente l'obiettivo che c'era stato posto, quindi vuol dire che i fondi li stiamo utilizzando, li stiamo spendendo, non siamo una di quelle regioni che non è all'altezza di usare i fondi che gli vengono messi a disposizione. Faremo il punto su questi temi, ma credo che l'occasione è importante perché in questo convegno, in questo incontro di lavoro, in questa giornata di lavoro cominciamo a porre anche le premesse su quelli che dovranno essere i grandi indirizzi sulla base dei quali andremo a preparare il programma operativo 2014-2020, sul quale è ancora in corso una trattativa per il riparto fra le regioni dei fondi, ma noi vogliamo, come si vuol dire, portarci avanti col lavoro, mentre in corso a trattativa romana vogliamo costruire qui a Genova e in Liguria con il partenariato quelle che sono le linee di utilizzo dei fondi 2014-2020 e l'incontro di mercoledì da questo punto di vista può rappresentare molto. La Liguria è comunque soddisfatta del modo in cui impiega i fondi, cioè la quota di impiego dei fondi è buona? Sì, la quota di impegno dei fondi come sempre è buona, siamo una ragione virtuosa. Noi avevamo da raggiungere il 31 ottobre una spesa certificata per 287 milioni di euro, abbiamo certificato spesa per 295, non era facile, non era scontato, è anche un momento di crisi dove le aziende e le imprese faticano a fare gli investimenti, tant'è che per la prima volta abbiamo quattro regioni del centro nord che non raggiungono la quota di spesa che gli è stata fissata, Lazio, Sardegna, Umbria e Piemonte purtroppo, io ci aggiungo purtroppo, non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo. La Liguria è come sempre una regione parsimoniosa, le risorse che ha cerca di usarle al meglio e cerca di non disperderne in nessun modo.